Penso sia un'ottima occasione proprio per andare nella direzione di questa contaminazione. Anche per questo come Fondazione Filarete abbiamo deciso di sostenere questo tipo di evento e i talk del TEDMED sono un grande esempio di questa possibilità di contaminazione ma anche la platea e il pubblico ha dimostrato di essere ricettiva e pronta a fare questo tipo di lavoro di incontro tra domande ed esperienze diverse.